Da oggi non dovrete più avere paura di lasciare a casa il vostro cane e di ritrovare la casa completamente distrutta perché è rimasta a casa da solo e si è annoiato Ma quante cagate vi mettete in testa? Questo dispositivo è un robot e si chiama Oro e serve per intrattenere il vostro cane ma anche per addestrarlo Va a cagare Semplicemente gli lancerà una pallina da qua, il cane imparerà a riportarla qua dietro, rinserirla da solo e lui gliela rilancerà Ma chi è che ti ha addestrato? Il cane giocherà tutto il tempo che vorrà fino a che vorrà smettere Che cos'hai nel cervello? Criceti? Potete addirittura programmarlo in modo che possa giocare il cane solo nelle fasce orarie che voi desiderate Infatti c'è un'applicazione, una companion app che vi permette di programmarlo a 360 gradi Beh noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche Non so, hardware Creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni La seconda funzione di oro è anche l'addestramento Infatti una volta che il cane avrà inserito la palla, l'avrà presa Da qua potrà essere lanciato un piccolo treat Un croccantino, qualcosa che vi può essere utile per dargli un premietto Vai a scuola e non rompere i coglioni Sempre attraverso le fotocamere e i microfoni che ci sono qua dentro Potete registrare la vostra voce e dirgli non so, seduto, terra, con la vostra voce per addestrarlo Va a mettere il gomito così un attimo Ma va a cagare Grazie 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 Grazie